E l'arbitro dice che può bastare, nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, ma anche un po' noiosa. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e a presto Fabio.